Lo studio del territorio, il rapporto agli eventi della storia d'Europa che nel Medioevo hanno influito sulla formazione della cultura locale e che ancora riverberano segni tangibili nell'attuale patrimonio artistico, architettonico e demo-ettono-antropologico di Montecalvo Irpino ha ispirato il contenuto del presente cortometraggio. La conoscenza delle proprie radici e l'inclusione delle vicende locali nel percorso più ampio della storia europea hanno avuto lo scopo di reinserire gli alunni, dandone loro coscienza nel quadro di civiltà di appartenenza di cui sono essi i legittimi eredi. Innestata sul male, inteso in senso cristiano, e sull'ambizione di poteri straordinari, indispensabili per combattere irrazionali sciagure, singole o collettive, la leggenda delle Ianare, le streghe, impaurì, affascinò e accompagnò le vicende umane in Europa per tutto il Medioevo. Fu al fuoco dei camini delle antiche taverne, situate lungo le vie Appia e Traiana, che i primi racconti fantastici cominciarono a diffonderne l'eco, che dal ponte Valentino in Benevento al ponte dei diavoli in Montecalvo, ancora oggi incanta e si propaga. Mutuato in una sorta di sincretismo magico-religioso dalla cultura sannitico-romana e nordico-europea, il personaggio della strega, ancora oggi popola racconti e leggende del mito montecalvese. Dal castello e dai medievali vicoli di Montecalvo e Irpino, il menestrello introduce la terrificante storia delle Ianare, Ianare o streghe, nome derivante dalla dea Diana, di cui erano sacerdotesse. Miserie e donzelle, vi vado a contare la detra storia delle Ianare. Miserie e donzelle, vi vado a contare la detra storia delle Ianare. Con la mia voce di menestrello vi conterò del pipistrello, che con la gatta e il lupo mannare sono le bestie delle Ianare. Cerchio magico e filtro d'amor corron tutte, giovine figliole, lo tempo è pur sempre quello, balla e saltella, lo scazza Mariello. Solo le scope insieme al sal sanno scacciare. e le scaltre Ianare, che sciogliendosi tra foschi richiami, trasforma gli uomini in arbusti e rami. ogni equinozio di primavera, ogni anima non è più nera. La vita sembra un po' meno amare e ogni donna si sente llanare. La vita sembra un po' meno amare e ogni donna si sente llanare. la vita sembra un po' meno amare e ogni donna si sente llanare. La vita sembra un po' meno amare e ogni donna si sente llanare. celebrata dai longobardi beneventani allo scopo di rinsaldare il loro spirito etnico che offrì il supporto letterario su cui ordire la leggendaria trama della nota tregenda. Intorno ad Yggdrasil, l'albero sacro del dio Odino, i cavalieri della lunga barba turbinavano veloci. Yggdrasil divenne noce. I cavalieri si tramutarono in streghe e stregoni. Le lunghe lance furono i manici di leggendarie scope volanti. Ai piedi di un maestoso noce della campagna montecalvese, le streghe di Montecalvo, dopo aver portato scompiglio, danno vita alla diabolica ridda. Carne di bambini, latte di asina, carne grassa di lupa ed erbe sono gli ingredienti del celebre unguento che consentiva loro di volare alla volta di Benevento. Grazie a tutti. 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 La tavica lotta tra il bene e il male, che nel Medioevo si risolse nella visione evangelica del premio e del castigo, viene rappresentata nella leggenda di un oste malefico che, laddove oggi si estendono piccoli crateri vulcanici, gestiva una diabolica taverna. La sua fama divenne grande nel Medioevo, allorché di lì passavano con terrore i pellegrini diretti al santuario dell'Arcangelo Michele sul Monte Gargano. Quel luogo aveva già ispirato presso gli antichi il culto di Mefite, Dea degli Inferi. L'oste malvagio si arricchiva alle spalle dei clienti più facoltosi, uccidendoli e impossessandosi dei loro averi. La carne delle vittime, di preferenza quella più tenera dei bambini, veniva servita ai malcapitati avventori. Preoccupandosi di risalire all'origine del misterioso fenomeno vulcanico, la leggenda racconta di una lotta fra due forze malefiche, Loste e Satana. Quest'ultimo, travestito da monaco, avrebbe eliminato il rivale facendolo sprofondare nelle viscere della terra, che ancora oggi, in quel punto, conserverebbe una delle porte per l'inferno. Prima entrasi in tuo paese, là ci stavano ad aver, tu padrone da Bernardo era proprio una carogna. Chi portava argente e oro, chi passava l'ultimo, chi portava bordi pieni e turbicato, stevano da cantina. Ma noi orna la taverna, si ferma uno buona, c'è Luca, portava una visazza piena di moneditoro. L'u padrone e la taverna, già pensava all'uomo menduca, l'ufazzo ubriaca e poi l'u sacco magliarrupa. Questi cunti si facevano mentre lo monaco magnava, questi cunti si facevano mentre lo monaco viveva, e magnava e poi viveva, ma in zimbriacava mai. E magnava e poi viveva, ma in zimbriacava mai. Sera fatta quasi notte, quando si sentenna la foto, l'uomo non si spugliava e l'u campuccio si ripava. Tra risate e gli asti ma riaparenti, l'u dannato, tra risate e gli asti ma riaparenti, l'u dannato. Taverna, chi d'astra è morto, io so diavolo e tu sei morto, tu i dannati non buono, non stanno, ma in zimbriacano a rubare. Ammenuta la vota, toia, l'inverno per tutto l'ora, sada nasso, l'u mannare, la taverna sprofuna, sprofuna la taverna e lo suio taverna, sprofuna la taverna e lo suio taverna. Taverna, chi d'astra è morto, io so diavolo e tu sei morto, tu i dannati non buono, non stanno, ma in zimbriacano a rubare. Ammenuta la vota, toia, l'inverno per tutto l'ora, sada nasso, l'u mannare, la taverna sprofuna, sprofuna la taverna e lo suio taverna, sprofuna la taverna e lo suio taverna, sada nasso, l'u mannare, la taverna sprofuna, sprofuna la taverna e lo suio taverna. La concessione di indulgenze da parte dei pontifici a quanti avessero accolto gli appelli degli infiammati predicatori delle crociate e il conseguente passaggio di pellegrini, eserciti e mercanti diretti in terra santa, inserirono Monte Calvo nella nuova ventata storica che stava creando le basi della novella Europa. In questo contesto si inserisce la nascita dell'ospedale di Santa Caterina d'Alessandria che i superstiti montecalbesi della prima crociata a cui il paese aveva partecipato con un drappello di circa 40 uomini addossarono ai bastioni dell'antica cerchia muraria. L'imponente complesso architettonico ancora rappresenta la tangibile testimonianza della pietà cristiana che ispirò i sentimenti più nobili della nascente cavalleria ospitaliera. Templari e Cavaliere di Malta si alternarono nella sua gestione dando vita, sin dagli albori della loro storia all'omonima fiera che ancora oggi, nel novembre di ciascun anno riecheggia le pagine antiche della sua storia. Era stata proprio Benevento nella cui giurisdizione ecclesiastica già rientrava a Monte Calvo la culla dei Cavalieri di Malta. Fu in quella città che il 15 febbraio 1113 con la controfirma, tra gli altri dell'Arcivescovo Beneventano Landolfo Papa Pasquale II aveva approvato la regola dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme successivamente Cavalieri di Rodi ed oggi Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. L'ospedale di Santa Caterina d'Alessandria che già nel titolo ci proietta a ritroso nel tempo non è solo un superbo gioello di architettura medievale ma luogo ideale per la ricomposizione di affascinanti trame e scrigno prezioso di millenari ricordi. Le vicende che lo riguardano attraversano per intero il secondo millennio dell'era cristiana e diventano oggi punto di forza per una solida progettazione del nostro futuro culturale ed economico che avvalendosi di solide basi a buon titolo possa farci definire cittadini d'Europa. a buon titolo sono arrivati e sono tanti salti in banche musicanti perché sanno che domattina è Santa Catarina il signore del castello ha deciso che solo quello che onore e grazia questa fiera da comandà le taverne e le cantine sono piene di odor di vino di messerie e di briganti di puttane commercianti tutto quanto è un parapiglia chi acconsa e chi scompiglia chi vicino al fuoco sta fino all'alba da aspettar è arrivata finalmente la giornata allegramente tutti stanno in frenesia per trasfogo alla follia le fanciulle del paese brutto belle hanno pretese di comprare vesti e scarpe per fare invidia a tutte le altre ma il padre le ripiglia di pensare alla famiglia di ricitare un altro credo e prepararsi per il corredo cavalieri, monsignori ramai e avventori selai e pannazzari come volano i denari dai compriamo anche questo ci fa comodo è lo stesso che abbiamo comprato già alla fiera sei anni fa è finita la gran festa del frastuono poco resta sono partiti tutti quanti buffoni e viandanti anche il povero pezzente che non ha proprio un bel niente si riscalda al focherello e si avvolge nel mantello dato lì da un giovine perbene di cui non ricorda il nome che gli ha detto di partir prima di ringraziar Santa Catarina di ringraziar Santa Catarina di ringraziar Santa Catarina Grazie a tutti.